In questi giorni inizia la raccolta del riso, un'annata stranissima perché nonostante le abbondanti piogge e nonostante l'aumento di produzione, siamo intorno ai 226 mila eteri, si prevede un 7% in meno di raccolto, quasi come il 2023. Questo è dovuto alle grandi piogge, al freddo, al poco fotoperiodo che c'è stato, che riduce la produzione. Non sappiamo ancora la qualità, che sicuramente non sarà eccezionale e questo ha causato una forte diminuzione di produzione in quest'anno. Più di un pacco su quattro venduti in Italia è un riso straniero, questo impatta fortemente sull'economia e sull'immagine del nostro riso italiano. Ricordiamoci che l'Italia è il primo produttore europeo di riso e come qualità mondiali siamo gli unici.